Chiuse le indagini per il caso Coingas, 13 in tutto gli indagati, tra loro anche il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, a cui il PM Andrea Claudiani, oltre al favoreggiamento, adesso contesta anche l'abuso d'ufficio per aver nominato Francesco Macri alla presidenza di Estra. Secondo il Pubblico Ministero, sarebbe stata infatti violata la legge che vieta il conferimento di incarichi di amministrazione in enti privati in controllo pubblico, quale Estra, a chi aveva rivestito nell'anno precedente la carica di consigliere comunale, nomina che, sempre secondo la procura, sarebbe arrivata senza istruttoria e valutazione. Un'accusa questa che non tocca unicamente il sindaco, ma anche lo stesso Macri, definito come istigatore e beneficiario, l'ex amministratore di Coingas Sergio Staderini e l'assessore comunale Alberto Marelli. Sempre al primo cittadino è poi contestato l'abuso d'ufficio anche in merito al filone d'indagine sulle cosiddette consulenze d'oro di Coingas, oltre 500.000 euro, affidate al commercialista Marco Cocci e all'avvocato Pierettore Razon, indagati per peculato assieme a Staderini. Ma non finisce qui la procura a retina, contesta al sindaco Ghinelli anche l'ipotesi di favoreggiamento per aver aiutato il consigliere comunale Roberto Bardelli nell'ambito della presunta corruzione contestata a quest'ultimo e a Luca Mendola, in merito alla sua nomina, a presidente di Multiservizi. Un'accusa che pesa anche sul presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi. Dovrà rispondere sempre di favoreggiamento anche Sergio Staderini, autore delle registrazioni nascoste alla base delle indagini. Secondo l'accusa, in concorso avrebbero aiutato Bardelli ad assicurarsi quel sostegno economico circa 200.000 euro, attivandosi nei confronti di Amendola. Gli altri indagati a vario titolo sono Franco Scorteci, attuale presidente di Coingas, l'avvocato Stefano Pasquini, Mara Cacioli e Jacopo Bigiarini. Gli indagati adesso avranno 10 giorni di tempo per presentare eventuali memorie o decidere se farsi sentire dal magistrato che valuterà, caso per caso, se richiedere il rinvio a giudizio o meno.